Sì, la mia relazione sarà un po' diversa, infatti ho scelto, ma lo dirò poi ancora, il termine resistere, non resistenza, proprio per dare conto di una vasta gamma di comportamenti, di azioni che, anch'io sono d'accordo con quello che ha detto Luca, non si possono genericamente mettere, generalizzando sotto la categoria, diciamo, di resistenza, resistenza con R maiuscola. Però dico anche che Luca giustamente ha detto che senza la lotta armata non ci sarebbero state le altre resistenze e nello stesso tempo bisogna dire senza le altre resistenze, quindi senza le disobbedienze, senza l'atteggiamento di una parte della popolazione e quindi anche di molte donne, non ci sarebbe stata probabilmente la resistenza armata. I due aspetti si incrociano in qualche maniera e si rafforzano a vicenda. E come sotto l'occupazione tedesca, questo probabilmente tante donne non ce l'avrebbero detto dopo guerra, per tanti motivi, che poi mi accendo a parlare, lo potevano dire dei giovani, dei giovani che avevano vissuto l'esperienza della guerra come un'esperienza esaltante in qualche maniera, in cui erano diventati protagonisti, perché poi questo secondo me è anche il fatto. Io anche tanti anni fa con i studenti abbiamo raccolto storie di soldati e alcuni di questi addirittura, che pure erano stati prigionieri, hanno fatto esperienze terribili, però la guerra era un momento in cui, come dire, ad esempio nelle prigioni o poi dopo, erano diventati dei protagonisti, si erano andati da fare, avevano cercato di scappare, avevano cercato di, insomma erano, e quindi la loro storia veniva raccontata in questa maniera. Quindi questo ovviamente bisogna sempre vedere che cosa significa. Più che mai la guerra comunque è luogo e quindi tema che si presta a una rigida divisione, o meglio una rigida visione di genere. Lo Stato-Nazione d'antronde nasce, si sviluppa su un'identificazione simbolica con gli uomini in anni. La cittadinanza si lega al servizio militare e la virtù della cittadinanza, come dice Gina Einstein in quel bel libro Donne guerra, già di un po' di anni fa, è la virtù civica armata. Le donne sono simbolicamente escluse dalla cittadinanza armata e in Italia sono i soldati, sono i combattenti che fondano il risorgimento, c'è la mitologia della prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale era molto più difficile, impossibile costruire il mito del soldato e quindi è stata la resistenza armata ai partigiani combattenti a fondare la repubblica e a costruire il mito della nazione con tutte le contraddizioni che sappiamo per carità. Quindi ancora gli uomini. La scelta dell'inno di Mameli è significativa, scelta fatta il 12 ottobre 1946, confermato nel 2012, fratelli d'Italia, non sorelle, fratelli, maschi, siamo pronti alla morte e l'Italia li amò. Maschi armati, combattenti, nessuno ha detto niente su questa questione, forse qualcuno. È ripresa della sfidata in armi del 2 giugno, anche qui nessuno disse niente, Rossana Rossana scrisse un articolo contro la ripresa della sfidata del 2 giugno che significa che la nazione si identifica gli uomini in armi, poi che ci mettano qualche soldatessa a poca importanza, il problema è quello e non c'è nessuna capacità di capire che cosa sono i simboli, quindi di fare un'analisi di questi aspetti simbolici. Questa visione ha oscurato il contributo delle donne anche alla resistenza armata, perché appunto, come ne parlerò, ci sono delle donne, ma anche immarginato come irrilevante il loro ruolo per la sopravvivenza della vita civile, della vita comunitaria durante la guerra. E mentre una visione di genere della guerra ci permette di vedere aspetti sconosciuti, a volte contradditori anche della guerra, ci permette di costruire rappresentazioni stereotipate radicate nel tempo, nell'opinione comune, scomporre coppie dicotomiche, amico-limico, bene-male, eccetera. La storiografia su donne guerra ha spesso, proprio legandomi a queste cose che ho detto, sottolineato il silenzio, l'oblio sulle donne della guerra. Infatti, cito qualche titolo, Bruzzone e Farina, 1976, La resistenza taciuta. Numero di Clio, 1995, Silencieuse et oubliée. 2001, Numero di Autrement, Les oubliées de la guerre. 2008, Libro sulle donne e la resistenza in montagna, curata da Ersilia Alessandrone Perona, la presenza non visibile. Donne, guerra, montagna. Quindi, come vedete, questo è stato già un like motive degli studi delle donne delle donne sulle donne in guerra. Ecco, resistere alla guerra, come ho detto, scelto il termine resistere e non resistenza, perché il verbo ha una connotazione più ampia e può rimandare ad azioni e pratiche diverse che hanno caratterizzato il comportamento delle donne durante la guerra. Un diffuso rifiuto della guerra che si estrinseca in modi diversi, a seconda dei luoghi e dei contesti della guerra stessa. Sono molto d'accordo, la guerra in Italia è stata, non bisogna studiare una geografia della guerra, a seconda dei contesti la popolazione si è trovata di fronte a questioni, a scelte diverse e quindi ha agito in maniera diversa. Il fronte, i battagli, i bombardamenti, le violenze naziste si sono diversificate sul nostro territorio. Quindi un diffuso rifiuto, ma anche il tentativo di salvare e di preservare l'organizzazione della vita quotidiana, dei rapporti familiari e comunitari. Una pratica che possiamo anche definire, forse meglio, con la categoria della resilienza, una categoria utilizzata per studiare la risposta delle comunità alle catastrofi e all'emergenza che indica la capacità adattiva di affrontare appunto le catastrofi salvando i legami comunitari. E anche in questo caso, ci sono parecchi studi su questo, è stato notato come siano spesso le donne a fornire la tela, la rete di sostegno che permette la ricostruzione sociale, psicologica e materiale della vita. Un altro rimando importante per tutto questo è il concetto di pratiche quotidiane di Dessertot, Dessertot, questo grande filosofo, sociologo, storico, ci ha parlato, ha descritto appunto le pratiche di difesa quotidiana negli uomini e nelle donne ordinali, le pratiche di difesa del debole contro il potente e le ha fatte, le ha rilevate. Questo è quello che noi dovremmo anche cercare di studiare. Quindi resistere, resistere. Allora c'è anche da parte delle donne ci sono atti di resistenza, resistenza attiva, opporsi attivamente e quindi questi sono gli atti che potremmo effettivamente definire di resistenza. Come ha detto Luca, già in questo rifiuto, queste forme di resistenza sono già prima della guerra, sono legate appunto già al rifiuto della guerra che appunto si estrinseca in vari modi e però già con atti di resistenza. E già prima quindi c'è una politicizzazione dell'esperienza di guerra che appunto poi porterà, aiuterà poi la comparsa della resistenza armata. Sono appunto varie forme, io adesso dovrò andare veloce, di volte contro l'ammasso e il razionamento, soprattutto nel mezzogiorno. Ci sono casi nel 1941 ad esempio manifestazioni di 400 donne ad Altamura, altre 400 donne all'Agnano Marano a provincia di Foggia. A Monteleone di Puglia il 23 agosto 1942, già di questo ne aveva parlato Dall'Agnano nel suo libro, nel primo libro per ai contadini nel saggio. Ci sono appunto un gruppo di donne molto esteso, centinaia, che fanno la fila per fare con delle pignate di Gran Turco a Mulino e vengono attaccate dai carabinieri. C'è un'arrivo monta, l'incendio da caserma dei carabinieri, municipio, spari contro la folla. Arrestano 96 persone, di queste 96 persone 65 sono donne e 19, notate bene, sono ancora detenute nel 1946 e per l'accusa di devastazione e saccheggio sono liberate per iniziativa degli inglesi. Una di loro c'è anche la bambina in carcere e in appello nel 1946 c'è la conferma della condanna, l'amnistia nel 1950, poi considerato l'atto come un atto antifascista. Naturalmente anche qui c'è il collegamento, questo è un altro discorso importante, con le lotte del 2021, cioè siamo nella stessa zona in cui ci sono state fra le lotte più dure nel mezzogiorno contro i proprietari delle lotte agrarie. Quindi c'è un collegamento stretto, fra l'altro poi in questo periodo ci saranno anche le revisioni dei processi del 2021 e quindi tutto questo in qualche modo si collega ed ha ovviamente un chiaro segno politico. È un esempio ma se ne possono fare altri. Si sviluppano dal 41 al 43 ma in cui poi c'è la differenza geografica, si sviluppano anche dopo l'8 settembre perché dopo l'8 settembre c'è la pace ma è un non pace come ha detto anche Luca, qui in modo particolare. Continua la fame, continuano le carestie, continuano le malattie, torna la malaria che ritorna perché i bombardamenti hanno distrutto le bonifiche eccetera. E qui le lotte delle donne indicano l'estremo disastro che continua nel Regno del Sud dove ufficialmente la guerra è finita. e il nostro, un dottore di ricerca nella sua tesi, Mario De Prospero, lo voglio citare perché non ho avuto io questi casi, ha raccolto fra il settembre e febbraio del 43 manifestazioni con forte presenza femminile, 15 in provincia di Napoli, 19 in provincia di Avellino, 10 in provincia di Benevento, 27 nel Leccese, 8 in provincia di Bari, 9 in provincia di Canto. e come è noto sono manifestazioni spontanee contro appunto la carestia, contro la fame sostanzialmente, i partiti di sinistra come è noto già Nicola Gallerano come lo ha detto poi l'abbiamo detto in tanti, non si cureranno di queste dimostrazioni, cioè non ci sarà i partiti di sinistra e qui riallacciano delle cose che diceva Luca, per il Sud queste cose cominciano subito, cioè diciamo i partiti si occupano già di pensare al dopoguerra, di pensare agli equilibri politici e in realtà non pensano, hanno uno scarso legame con i problemi della popolazione in quel momento e qui c'è la rivalicazione secondo me che avviene fra il 43 e il 45, fra la politica e la popolazione, perché secondo me dal 40 al 43 l'Italia è unificata, l'atteggiamento è molto simile. Ovviamente l'interpretazione prevalente anche di allora è quella di un comportamento prepolitico, non sto qui a ripetere le cose che già sappiamo, per cui anticamente già Epitom sono discusse di questi comportamenti, sono comportamenti razionali delle folle, sono delle richieste etiche di giustizia e poi c'è la ripresa dei modelli tradizionali di lotta, quando si lotta ci sono dei modelli che si utilizzano e quindi di nuovo l'incendio dei municipi eccetera. Però in questo caso, e qui poi ci ritornerò dopo, c'è anche una continuità fra pratiche quotidiane e protesta, questa è una caratteristica della lotta femminile, la mancanza di cibo, la fame, il problema della sopravvivenza della famiglia, quindi la protesta. È una resistenza che prolunga le pratiche quotidiane ordinarie, c'è una continuità tra vissuto delle donne e l'olazione, questo Jean-Marie Guillaume ha detto questo in un saggio sulle ménagères in Francia. In questo senso, proteste analoghe si svolgono in città, anche nelle città, sono proteste contro il nazionamento. E poi, ecco, si svolgono a Torino, si svolgono a Milano, si svolgono a Napoli, sarebbe impossibile fare un'analisi completa. Poi, ovviamente, ecco, una risposta attiva, più che mai attiva, sono gli scioperi nelle fabbriche. E qui, su questo, ci sono delle testimonianze, non tante, però ovviamente se ne potrebbero anche trovare di più, testimonianze, ad esempio, nel libro di Bianca Guidetti Serra, Compagnie, il libro di Bianca Guidetti Serra, bisogna ricordarlo, è uno dei primi libri che raccoglie le storie delle donne partigiane che hanno fatto la residenza, e sono storie molto interessanti, molto toccanti. E qui c'è appunto la testimonianza di Anna Anselmo, che parla degli scioperi nelle fabbriche, in particolare lo sciopero del marzo 1943. E anche qui, e poi in queste riprese, in queste interviste, sono state riprese da Marcella Filippa, in un altro suo saggio, e aggiunge altre interviste. E Marcella Filippa fa notare, anche qui, la stessa cosa che ha fatto notare Luca per i partigiani. Questa signora, Rina Cavallo, intervistata dalla Filippa, dice del giorno dello sciopero, è stato il più bel giorno della mia vita. Perché, appunto, lei si è stata, è stata, diciamo, un soggetto importante di questa iniziativa, insomma. Quindi, resistenza già, possiamo parlare di resistenza attiva, in tutti questi casi, quindi, probabilmente di resistenza già con la R maiuscola. Poi c'è, appunto, la resistenza delle donne in armi. Quella che Luzone e Farina hanno chiamato resistenza taciuta. E la critica è, la critica che è stata fatta è che c'è stata l'assenza della memoria. Qualcuno ha detto, giustamente, proprio in questo libro dei francesi, forse in otro momento adesso, che non è stata tanto assenza della memoria, ma assenza della storiografia, più che assenza della memoria. Nel senso che, appunto, la memoria c'era, ma il ricordo, poi, della storiografia, e il ricordo, diciamo, comune, delle celebrazioni, ad esempio, nella memoria pubblica, si fissa sul concetto di contributo. Quindi, di nuovo, il ruolo della donna di assistenza e cura, considerato subalterno secondo gerarchie di genere. Quindi, di nuovo, il ruolo delle armi. Solo chi aveva le armi, effettivamente, era un partigiano. E il concetto è che la vita la rischiavano gli uomini. In realtà, noi sappiamo che le donne, nei gruppi di difesa delle donne in città, nei GAP, eccetera, ma anche quelle che facevano le staffette in montagna, rischiavano la vita quanto gli uomini. Quindi, anche se non avevano un fucile addosso, rischiavano la vita, sono stati torturati. Il rischio è stato enorme. E quindi, andrebbero messe nel ricordo, appunto, della resistenza con l'aereo maiuscola armata. Come scelsero? Questo è anche un aspetto importante, il problema della scelta. Ci dicono gli studi su queste donne che spesso scelsero per tradizioni familiari. Padri, fratelli, amici. Questo è molto forte. Però io dico, e questo viene sempre sottolineato, io dico anche che gli uomini scelsero sulla base delle relazioni, no? Lo dice Carbino, lo dicono tanti. Un giovane di 20 anni, allora 18-20 anni, sceglie un po' quello che scelgono gli amici nel paese e scelgono anche in base, diciamo, alla tradizione familiare o a volte contro la tradizione familiare. Questo anche è successo. Quindi, tutti questi aspetti contano. In realtà, si potrebbe dire, secondo me, che la scelta per le donne è stata quasi più determinata e libera che per gli uomini, perché molti giovani uomini erano sbandati, furono in un certo senso obbligati a scegliere o di qua o di là. Anche se c'era un'altra scelta che era quella di scappare, sempre, e questo è stato fatto, si sa, da molti giovani uomini. Le donne no, le donne potevano anche non scegliere. Quindi il tema della soggettività e della libertà è molto forte e infatti emerge con grande forza nelle interviste, appunto, che fece Bianca Guiretti Serra allora alle donne che avevano fatto la lotta partigiana. Quindi scelta di soggettività, di libertà è anche molto importante una scelta di emancipazione e di parità con gli uomini. Questo viene sempre molto, molto sottolineato. Bisogna anche dire, anche su quello ci sono stati iscritti che anche le donne che hanno aderito alla Repubblica di Salò, anche loro hanno fatto una scelta di questo tipo, combattere parità con gli uomini, eccetera. Ma su questo ovviamente non rientra nel nostro discorso. Su questo tema ci sono già molti lavori, appunto, libri più noti, antichi, Guiretti Serra, Rezzone Farina, ma anche dopo tanti contributi su casi locali e regionali, sull'Emilia Romagna, in donne guerra politica, sulle donne del Treviso, insomma ci sono tanti studi locali che forse avrebbero una volta rivisti tutti insieme e se ne potrebbe lavorare, insomma, fare un qualche cosa di comune. C'è ovviamente il grande libro di Lidia Beccaria Rolfi, anche da lei c'è un'analisi della lotta partigiana, ma è della deportazione e nel libro di Lidia Beccaria Rolfi c'è anche un elemento molto importante che raccontano molte donne anche, che è il ritorno. Ecco, il dopoguerra per queste donne è stato ancora più duro che per gli uomini, molto spesso, perché il riconoscimento è stato scarso dal punto di vista politico, tranne per alcune più importanti, ma soprattutto non c'è stato riconoscimento della società, non c'è stato, anzi, Lidia Beccaria Rolfi racconta proprio di essere stata perseguitata, perché era una maestra, il rispettore, il resto, erano contro la lotta partigiana e soprattutto erano contro le donne che avevano fatto la lotta partigiana, che erano state deportate, quindi queste donne hanno poi una grandissima difficoltà. Il dopoguerra è questo ovviamente, è un altro problema ancora, e che è la differenza con gli uomini, anche se è appunto anche per gli uomini. Anna Brago nella nuova introduzione, che differenza c'è nel loro racconto, che differenza c'è stata nella loro storia con la resistenza degli uomini? Anna Brago nella nuova introduzione a Resistenza Taciuta, ci dice che loro esprimono un'ideologia più debole, una capacità di distinguere di più degli uomini caso per caso, di affrontare il problema della responsabilità in relazione alle azioni armate. Quindi, probabilmente anche per la loro caratteristica, insomma. Ovviamente, bisogna ricordare ancora il contributo di Anna Brago al libro Resistenza senza armi, e qui ci parla appunto di resistenza civile, maternascere di massa. Anche qui potremmo parlare forse già, anche in questo caso, di una sorta di resistenza, anche se anche qui bisognerebbe discutere. Le donne, ovviamente, gli uomini erano lontani, quindi le donne hanno avuto un ruolo di prima fila nel nascondere gli uomini, nell'alliutare gli uomini, qui è stato un atto, diciamo, antico. E collegato, collegato alla loro, in fondo alla vita quotidiana, collegato alle storie della vita quotidiana. Quindi, come dire, pratiche che dalla vita quotidiana si trasferiscono nella lotta. Ecco, direi da questo punto di vista, il ruolo delle donne nell'insurrezione di Napoli si può leggere proprio anche attraverso questo turismo, questa categoria. Hanno avuto un ruolo molto grosso nell'insurrezione, sono morte tante. Noi abbiamo i renghi, diciamo, anagrafici, che io ho ripercorso, ci sono molte donne morte. Voi mi direte, probabilmente non combattevano, sì, però, potevano stare chiusi in casa, non ci sarebbe successo niente. Vuol dire che erano per strada. Che erano per strada, facevano qualcosa, ed è proprio il legame con la sfera quotidiana, con la sfera domestica, la caratteristica dell'insurrezione di Napoli, che quella, secondo me, rimane questo, è di essere stata legata al territorio in maniera molto forte. Non c'era ancora la lotta partigiana, quindi la lotta avviene nei vicoli, avviene nei quartieri, anche se è organizzata, ci sono i soldati, appunto, adesso non voglio entrare in questa discussione, che è annosa, ma è una lotta armata, ci sono appunto soldati sbandati, eccetera, ma il contributo del vicinato è stato un contributo fondamentale, quindi il contributo delle donne. Quindi anche qui, come vedete, questa trasposizione della pratica quotidiana, della vita quotidiana, dello spazio femminile, anche della lotta armata. Qui c'è un altro caso che bisogna citare, che ovviamente è controverso e difficile, ed è il caso della resistenza da ruolamento nel sud. La lotta dei non si parte, di cui ha parlato scritto Forcella, e ha parlato anche il grande popolone. E qui, appunto, la lotta dei non si parte, è anche questa una lotta contro la guerra. E il caso di Maria Occhipinti di Ragusa, qui, lo saprete, la lotta dei non si parte, è la lotta dei giovani contro l'appello alle armi dell'esercito padoriano. Maria Occhipinti di Ragusa era una donna comunista di origine popolare, autodidatta, che fu imprigionata, tra l'altro in prigione, che le partorì. E a Ragusa, come sapete, soprattutto a Ragusa, ma in poi tutto il sud, c'è stata una resistenza, appunto, all'appello al reclutamento, e che è stato dipinto come una resistenza fascista, una resistenza reazionale. Lei nel suo libro, nel suo libro dipinge, dipinge da un lato, spiega la lotta, e dipinge da un lato i conservatori, i re, i prefetti, gli amministratori, i direttori delle prigioni, con i rappresentanti degli interessi, degli stessi interessi, delle stesse culture del periodo fascista. E dice, noi contro questi combattivamo, non volevamo più andare a combattere, non volevamo che i nostri figli, i nostri fratelli, andassero a combattere con questi qua. E d'altro canto, descrive i partiti della sinistra in capaci di comprendere, di difendere le classi popolari che pretendevano di rappresentare. E presenta la rivolta, cito proprio dalla sua scritta, come una rivolta popolare contro la guerra. Diciamo una critica di genere, democratica, nel suo libro ai comportamenti delle autorità, dei magistrati, dei soldati che hanno sparato sulla folla. La guerra di resistenza e resistenza alla guerra si intrecciano in questo caso in forme difficili che sono proprio legate alle storie diverse dell'Italia di allora. passo a un altro punto appunto resilienza. Io definirei di più queste altre pratiche come appunto resistere alla guerra, rifiutare la guerra, forme di resilienza alla guerra. Pratiche ordinarie che permettono alla società di sopravvivere, di rialzarsi poi anche nel dopoguerra. Questo è un aspetto importante. i vissuti di crisi e di guerra sono differenti a seconda dei sessi. Il razionamento, le code, la provvista del cibo, i vestiti, di queste cose gli uomini anche se sono a casa non se ne occupano, se ne occupano le donne. Cuciono, girano i vestiti, recuperano, i paracaduti diventano dei vestiti, le coperte militari diventano dei cappotti. Sono attività che garantiscono la sopravvivenza in guerra. E come nelle catastrofi sono le donne a garantire la vita quotidiana e soprattutto la cura per il cibo è anche l'elemento simbolico di cura, di protezione e fa parte di tutto questo. D'altronde siamo, è una generazione che aveva già sofferto la fame e in cui il cibo era al centro proprio del simbolico diciamo della salute già prima della guerra. Insomma, è una generazione che parla di cibo, che parla di pane. Oggi no, non ci sarebbe più. E quindi il cibo è anche elemento simbolico di cura e di protezione ed è al centro dei racconti popolari. Io ho raccolto racconti nella zona appunto in cui la guerra ha colpito tantissimo sia con le stragi naziste che con i bombardamenti in Campania e c'è un racconto ad esempio di Carolina Nardone una signora di Bellona che ha avuto il fratello ucciso in una strage nazista. e lei ci racconta della madre ci fa un descrive la madre e descrive la madre corre dietro al figlio figlio fra l'altro ha 13 anni un bambino eppure è stato preso e è stato ucciso appunto in una rappresaglia e corre dietro al bambino che è stato preso dai soldati tedeschi portandoli una merenda dice portandoli da mangiare perché non sa ancora i tedeschi spesso appunto non dicevano che andavano a fucinare non sa ancora che li fucideranno pensa che li stanno portando al lavoro coatto e poi ci racconta ancora questa signora che la madre siccome poi questa popolazione è stata evacuata la strage era avvenuta quando già erano evacuati e la madre non sa che il figlio è stato ucciso e quindi torna di nascosto nel paese sempre portando dei panini delle merende e grida Valentino Valentino e Valentino è già stato ucciso quindi c'è questa descrizione di madre e che vabbè le madri tornano sempre però è questa descrizione concreta che colpisce la rappresentazione concreta della protezione dalla violenza che si esprime attraverso il cibo in un altro caso invece ad esempio la madre arriva con il cibo e riesce a salvare il figlio riesce a dimostrare che il figlio e un bambino se lo porta via il racconto abbiamo anche il racconto di una moglie che sa che il marito sta partendo per la Russia e sta fermo a Gaeta e lei parte subito cerca di raggiungerlo cosa ci dice prima ho fatto una bella cesta piena di cibo e sono andata a Gaeta per salutare mio marito sono arrivata e lui era già partito e quindi c'è questo cibo che mi torna ed è questo aspetto diciamo simbolico della cura e della cura mancata dell'impossibilità di salvarlo il cibo tornato indietro è anche questo infatti il marito morirà in Russia poi c'è le donne anche sono al centro dello sfollamento lunghi percorsi Stefano Musso in un libro anche lui in uno suo saggio ci parla dei lunghi percorsi di sfollamento di Torino che sono percorsi matri lineari posso dire anch'io per esperienza per storia personale che anche mia madre è sfollata a Torino con un percorso dai nonni nella cintura di Torino e poi in contrabbando spicciolo i viaggi tra la campagna e la città che facevano le donne con le borse eccetera è un'altra caratteristica diciamo di questi aspetti di resilienza delle donne e poi l'elaborazione del lutto sono le donne soprattutto che si occupano dell'elaborazione del lutto e noi abbiamo tanti altri casi tanti racconti ci sono anche dei racconti estremamente che colpiscono soprattutto nel sud si usava a portare le cose in testa e noi abbiamo queste donne con la vara in testa che vanno al cimitero a portare proprio nel caso di Bellona ci sono questi ricordi ci sono anche dei filmati sul sud con le donne con la vara in testa quindi poi la cura dei morti abbiamo molti casi su questo tornerò e sappiamo anche nelle montagne la cura seppellire i morti è stata una delle cose che hanno fatto le donne quindi Luisa Passerini ci ha scritto scusate ancora volevo citarvi dimenticavo c'è un film da questo punto di vista molto bello sulla Germania non so se l'avete visto del 1980 il film si chiama Germania pallida madre e mette proprio in luce l'esperienza della donna della guerra mettendo in discussione proprio la separazione fra sfera pubblica e sfera privata c'è questa donna con una figlia che si aggira in questa lotta diciamo per la sopravvivenza in questa Germania desolata e poi il titolo del libro su cui ritorno è il titolo di una poesia di Brecht e quindi c'è l'idea della Germania madre che è stata di ripesa dal nazismo ma su questo tono e anche lì appunto c'è l'esperienza delle donne in guerra e di questa separazione fra sfera pubblica e sfera privata che hanno costruito diciamo gli uomini e che queste donne devono rimettere insieme in maniera molto difficile questo lo si vedrà al ritorno del marito dalla guerra Luisa Passerini ha detto l'azione e il ruolo delle donne si collocano in uno spazio intermedio fra la straordinarietà del momento storico e la dimensione quotidiana questo è proprio uno degli aspetti dell'esistenza fra spazio domestico e spazio pubblico della lotta armata come della manifestazione le donne sono in una sorta di posizioni di frontiera e nella seconda guerra mondiale sappiamo cade la distinzione fra fronte interno e fronte esterno ma cade anche la distinzione fra vita quotidiana e straordinarietà della vita in guerra tra privato e pubblico e quindi le donne in questo modo sono quelle che di più incarnano questo incrocio diciamo tra questi due confini possiamo ricordare anche la distinzione di Todorov virtù eroiche virtù domestiche ecco le donne mettono in piedi mettono in piazza le virtù domestiche più degli uomini proprio per questo legame possono mantenere anche il legame con la realtà slegato dalle ideologie quindi questo rapporto con la responsabilità diciamo da questo punto di vista io ho sempre rifiutato la categoria di zona grigia non so se esiste la zona grigia esiste una società molto complessa c'è chi fa bene c'è chi fa male c'è chi attua dei comportamenti molto diversificati e questo penso che si debba fare senza parlare di zona grigia in memoria del male tentazione del bene Todorov nel capitolo su Grossman Grossman attore di vita e destino ci dice questo mi sembra che funzioni bene i giusti non cercano il bene ma praticano la bontà aiutano un ferito anche se è un nemico nascondono gli ebrei perseguitati recapitano la lettere dei detenuti una scena di vita e destino ne illustra la comparsa una donna russa tende un pezzo di pane al prigioniero tedesco mentre egli si aspetta di venire linciato questa bontà si incarna in modo emblematico nell'amore materno c'è un caso nel sud molto famoso forse anche molto enfatizzato però e che è quello di Mamma Lucia Mamma Lucia così chiamata era una donna di Cava dei Tirreni quindi Cava dei Tirreni è proprio davanti allo sbarco di Salerno questa è la zona che è stata bombardata c'è stata una grande battaglia ovviamente fratelli e alleati bombardata dissutta e lavorando nei campi subito dopo il 43 scopre lavorando scopre comincia a scoprire tanti corpi di soldati e comincia a dare spoltura a questi soldati di tutti i tipi soldati tedeschi soldati alleati ma soprattutto sempre sono in maggioranza soldati tedeschi più di 700 soldati e è stato diciamo enfatizzato il suo ruolo di madre perché l'ha fatto lei le hanno chiesto perché hai fatto questo lei ha detto sono tutti figli di mamma e qui in realtà lei ha avuto una medaglia dalla Germania per questo una medaglia anche dall'Italia ed è stata sepolta nella chiesa dove lei portava a Cava dei Tirreni questi soldati e accanto a un'integnoto accanto al corpo di un soldato ignoto allora che dico madri retorica certamente certamente ma c'è anche un ruolo diciamo positivo è anche un mito positivo ultimamente ho presentato un libro sul caso argentino Todocambia di Gennaro Carotenuto e mi ha colpito questo Gennaro Carotenuto cita un altro libro di Elisabeth Mayer in cui si dice che la madre del desaparecido è diventato un nuovo mito fondativo dell'America Latina attuale quindi c'è la legittimazione della madre come portatrice del diritto alla verità e alla giustizia da vittime private diventano soggetti politici e quindi diciamo questo mito materno altro ruolo possiamo dire questo mito rifondativo della madre è stato utilizzato ad esempio in Ruanda che dove voi sapete in Ruanda c'è il 63% di percentuali di donne sono al Parlamento eccetera adesso non sto a dire c'è anche un problema politico per carità però come dire sono state utilizzate come simbolo di pacificazione di vita che risorge è chiaro le donne possono anche avere agito alla violenza sono presenti negli inciaggi anche questo bisognerebbe studiare sono presenti nella rappatura delle collaborazioniste sono presenti nelle relazioni quindi non è parliamo di miti parliamo di miti quindi l'uso però del mito materno contro la violenza invece del nome del padre io dico tornando alla Germania parli da madre potremmo parlare il nome della madre e infatti nella Germania parli da madre si sceglie Heimat e la terra madre di non fatherland e perché la terra madre è disonorata e resa vittima da padri e figli scelerati la restaurazione dell'autorità maschile di farmi il marito che torna dalla guerra esprime la restaurazione dell'autorità maschile ed è di nuovo violenza ma super carino mito parlo sempre di miti miti ma il nome della madre un'immagine non paterna ma materna della nazione direi io la difendo e mi piacerebbe che il nostro inno non fosse fratelli d'Italia grazie grazie